Diciamo solo una cosa, siccome c'è pure il guardavallo online, voglio dire, nel momento in cui saranno sorseggiati gli scudatori, se capitasse nel sorteggio qualche professionista, qualcuno, dove ci sono già stipendiati e con la sensibilità, si innesce di colo e poi giudice ad attore. Va bene, comunque, testimoni, anche se c'è poca gente che si è citata, apriamo, ecco qua. Allora, il sorteggio, quanti ce le vogliono per ogni sezione, quindi, se nel 4 ci vogliono 24 scudatori. allora ragazzi ma fanno i miei di dietro si si vede e vedi qua ragazzi ti guadagnaste i gettoni oggi 6 sopprendi allora capio una alla volta ragazzi ti guadagnaste i gettoni uno uno da più uno da più una alla volta e comunque non è fatica ma valletto siete pronte? ecco qua allora primo numero 393 ragazzi vieni qua uno due uno gli ha dato no i gettoni non ti guadagnaste vieni qua zero martini si decora ragazzi un attimo tre quattro nove tre quattro nove tre quattro nove tre quattro nove trecento quarantanove guido all'esterno dell'ottanta tre allora aspetta dammi martini si decora quattro nove quattro nove andava a due martini si decora no 23 23 0994 ok poi a due vedo la stella trecento cinquanta tre quattro uno trecento cinquanta tre Paparoio Giuseppe, 2, 10, 89. Colazione numero 2. Allora, 619. Squillacetti, Maurizio, 2209. Ascolti, ma puoi spillare o puoi spingare qua sotto? Come va? 229? Puoi spingare. Ma noi ci vi fotocopoli? Questa? No, ma noi ci fotocopoli. No, ma noi ci fotocopoli. No, ma noi ci fotocopoli. 229? No, ma noi ci fotocopoli. Io ho quello 180. Che tu mi hai dato. Sì, sì. Villagioti, Maurizio. 229. Dava sotto, nella prossima neve. Ciò vi concentrivo con il vostro, io? No, io ho gli. No, no, no. 391. Martino e Sagazio. Esatto. Sole, frate il sole. Senti, 885. E' ne debbero da Marina? No, no, no. No, frate il sole. E' ne debbero, stiamo in stavolta. Non è nello frate il sole. No, è martinio di sedembre. No, è il piatto nazionale. Sì, si ha ragione, è ragione. 279. Ma si sente da voglia. E no, caccio, qui è l'audito. Si scappa con una cosa. Galati Rosa, 711.75. Ecco, adesso ci potrebbe. Ok, vai. 416. La 2 l'abbiamo finita. La 3. 564. La 2 l'abbiamo finita. Sta boggiando all'uraccano. E' il ritano della parte di mia mamma. E' babbo, mo'. 299. 3. Garaziniti Roberto. 12, 181. Ui di Peppi, lo vado. La data di nascita? 12, 181. Punto. Cesero, Solito? Sì, sì. 74. Campagna da nero. Campagna da nero. 13, 11, 70. Mi pare di tolto? No. No. Va bene, tu puoi dirle. 343. Guido Lidia. 29, 8, 60. 60. E poi ci dici. Vai. Non va bene. Non va bene. Non va bene. No, si dice. Sì, non va bene. Sì, non va bene. 6, 3, 83. 6, 3, 83. No, non è solo rubato. No, non è solo rubato. Non c'è nessuno. 3, 11, guarda me, cari. Ci mi scudono gli addirittori. Giere Citano Francesca. 29, 9, 78. Mi sono passato il 100. 29. Allora. 29, 9, 78. Giere Citano Francesca. Sì. Sì, lo faccio per i tempi. Faccio io. Vai, vai, vai. Vai, vai. 607. Ecco. Dai, ci deve ponare sto mattino. Schiamone Maria Caterina. Come? Schiamone Maria Caterina. 26, 8, 69. Sono a guardavalle superiore. 60. Sì. Sì. Sì, scopica le 5 dovrei andare a segnare. Intimo della posizione. Numero? 540. Ah, no, la parte ciò di prima e passo. Va bene. Ok, ci facciamo. Ranieri Maria Carmen. 24, 5, 8, 9. Sì. La quattro l'abbiamo finita. Quindi 5, 6? Sì. 425. Messineo Rocco Matteo. 13, 11, 94. 6, 7, 60. 676. Quattrocento tre 259 Galati Barbara, 17, 12, 83 Sesta, sesta, sesta 305 Gerecità Rattorio, 14, 183 Sesta, 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 sesta 301 Garzanetti Vincenzo 17, 5, 81 302 Gerace Deo 1, 1, 85 616 Quanto c'è davanti nel riserva? Il solito 10 ne facevamo? 10. Anzi, ne chiamo da 12, due percezioni. 266. Regalati Giuseppe, 16.385. 608. Schiavone Raffaella, 25, 5, 64. 569. Rullo affermante. 7, 12, 77. 22. Andreacchio Giuliano, 5, 8, 89. 298. Garzaniti Maria Beatrice. Portato 18, 82. 5, 497. Samaggio Settino. 28, 72. 478. Pasquino Flaminio. 28, 3, 74. 5, 576. Salerno Assunto. 28, 72, 74. 9, 344. 344. Vito Maria. 29, 11, 62. 367. Lucifero Caterina. 304. 304. 25, 11, 62. 25, 62. 25, 62. 25, 62. 1, 1, dai. 25, 62. 50. L'ultimo. Questo, sono 12. L'ultimo. 30, 62. Beglam, cattiri ha rancari. 21, 60. 35, 62.